Biogas, Grosseto disciplina la materia, firmato il protocollo volontario tra il Comune e gli impianti a biogas. Tutto questo per risolvere i problemi relativi agli odori. Laddove manca la normativa, o perlomeno non c'è chiarezza, il Comune di Grosseto ha avviato con questo accordo volontario. Un lavoro che attualmente compensa una vacazio legis, anche se sia la Regione Toscana che a livello nazionale si sta lavorando in questa direzione, dimostrando che Grosseto, laddove c'è vaghezza e poca chiarezza, fa un passo avanti in sinergia con tutto il territorio per migliorare le condizioni di attecchimento di imprese, di persistenza della presenza delle imprese, ma soprattutto della qualità dell'abitare e dei cittadini. Quali sono gli interventi più significativi che prevede questo protocollo? Innanzitutto si fa un monitoraggio ogni sei mesi, quindi due volte all'anno, di quelle che sono le sostanze contenute all'interno dei rifiuti solidi, dei sottoprodotti e quant'altro in maniera da avere un dato oggettivo di riscontro, ma poi soprattutto si danno dei suggerimenti su base volontaria che sono stati accettati dai sottoscriventi del protocollo per quanto riguarda lo stoccaggio, lo spandimento e l'interramento e i tempi di interramento soprattutto di questo digestato. Che cosa si aspetta da parte dei comitati? Io mi aspetto comprensione, mi aspetto pazienza, mi aspetto il riconoscimento di un grosso sforzo non scontato. Si tratta di aggiungere ulteriori impegni in un'ottica di maggior convivenza con la popolazione, con i residenti vicino alle zone di campagna. I nostri terreni miglioreranno, saranno maggiormente fertilizzati grazie anche agli impianti esistenti fatti in questi anni.